ciao miei cari amici ben ritrovati qui nella mia bellissima cucina oggi dolcino coppette tiramisù al cioccolato monoporzione così ognuna si gode la sua veloce semplice e soprattutto senza uova e senza mascarpone io le faccio così sono leggere soffici e altrettanto gusto tiramisù prepariamo insieme allora gli ingredienti per queste coppette a tiramisù una panna vegetale io uso questa perché mi trovo benissimo in una soia non ha niente ma è semplicemente una panna vegetale ho presa al conad per chi lo vorrebbe sapere poi del caffè già zuccherato dei biscotti secchi della cioccolata io uso questa della rigoli e del cacao amaro andiamo a prepararle primo passaggio andiamo a a montare la panna ecco qui bella montata e montata questa panna devo dire che mi sto trovando veramente bene con i dolci eh veramente ottima allora la metto qui e andiamo le nostre coppettine un pizzino biscotti ok 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 ecco qui la panna a metà così l'avete coperto abbastanza andiamo a mettere la nostra cioccolata e si deve sentire eh ecco qua adesso andiamo a mettere l'altra panna ok tocchiamo bene ecco qui ecco qui e il nostro cacao finisco con le altre e vi faccio vedere ecco amici le mie coppette tiramisù e cioccolato ecco spero che questa mia ricetta vi sia piaciuta vi mando un grosso bacio e alla prossima e e e e e Grazie a tutti.